è in seconda, ma come lo conoscete? 100, è spinto a passo illumino di un menso, che bello sta facendo Morini, quindi semmai svitali completamente là e fai tutto dai bischi alla mia prova se non tengono, però mi sa che rimangono fuori dai morti oh, ciao oh, non me ne ricordo è stato questo stupendo, perché è giusto no, ecco sì sì Salute al video È la fine del video Sì, Anna, che spadiglio La cosa più bella del mondo Grazie Ciao